Ok Transition Ed eccoci qua a commentare Questo game Loser round 3 Ah, button check No, non è button check Per un attimo è sembrato button check Ho visto un attimo titubanti Quindi Oppala E per lì torno è che la vedo male contro Joker Male, male, male Male, male È già Arsene Ma davvero Ma subito Ma counter Ma cos'era La scuda Via Punish Potentissima Che tappa attacca Che lo prende Però guardalo Minchia Che io piace Ma Ha resettato totalmente La lead Cioè l'ha cambiato Ha ribaltato la spazione Si può dire Little Mike è difficile Di giocarci contro Deve scudare Questo Leviathan Eh no Deve avvicinarsi A fare scudo Se no Un po' è un casino Un po' è un casino Eh Vedi Little Mike è proprio strano Non è smash Proprio Ok Counter Per tornare Bomba Però comunque Recovery fa Davvero cacare Quindi niente Ecco questo Legge tra Ah Counter Così Ma ho buttato lì Ma non c'era Boh Però ha funzionato Di nuovo Eh Me l'aspettavo Me l'aspettavo Dopo il 3 Eh E quindi sta vincendo Ray Gold È un grande È un king Letteralmente un king E che Eh Dopo voglio vedere Bylet Da 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 Leviathan Cioè Mi chiedo perché Stai usando Joker Ma qua deve stare Attentissimo Perché davvero Ecco Che io punch E buttato Però fa niente E no Ecco Adesso È È even È bella even E comunque Sta arrancando Per senta Anche Little Mac E anche Joker Vedi Con quel side B Fuori dallo stage Ottimo Davvero un'ottima opzione E niente Credo che non torni Mi ha mangiato il salto Esatto Mi ha mangiato il salto È un po' matto Questo Joker È un po' matto Comunque Ci sta Ci sta un bel po' Eh Ok E prende Il nuovo Joker Ci sta Avendo vinto Perché dovrebbe cambiare Comunque Vabbè Dai Ci si diverte Little Mac Un po' Un po' Cazzaro Però Ci sta Oh Per un pelo Stava per non tornare Smashing In gola Un'altra In gola Proprio Counter Sul nulla Ah Vediamo se Giga da qua Ah no Counter Effettivamente Little Mac È davvero Uno dei pochi personaggi Che usa il counter Spesso Almeno Così vedo Questo è ciò che vedo Proprio perché Gli serve come recovery Spesso proprio Grazie al counter Che riesce a recoverare Raskus È incazzato nero Ed entra un KO punch Ma che Ma è matto Matto Entra Il KO punch Così E adesso stanno tirando Colpi fantasmi Guardali Ah Finalmente E l'Hedge Trap Niente Ma lo grab Ma così Mambo Vediamolo Oh C'era C'era Una di quelle cose Da clip Proprio potentissima E qua Fianco a me C'è un Questo Che però Sta zitto E' strano Che non ha già L'Hedge Trap A questo Little Mac Anche se Comunque L'Hedge Trap Di Little Mac Ci sta Ha difficoltà A leggere il Jump A poter reagire il Jump Proprio perché Boh è strano Strano forte Ma comunque Alla fine Può grabbare Buttare offstage O fare qualsiasi cosa Ma si è preso un F Smashing Go Boh ma perché Non dovrebbero entrare Ste cose Aia E' un SD Da parte di Re Gold Oh Ha pivotato il grab Da nulla Ogni tanto Capita con questi controller Nuovi Che sono matti Fanno cacare Al cazzo Fatti per rompersi Ah E comunque E' più o meno Even Eccolo Vediamo Niente Niente L'Hedge Trap Ancora una volta E lascia stare Lo lascia proprio stare L'Hedge Se ne va C'è paura Aia Un altro SD E niente E quindi 2 a 0 Per Leviathan Mati